E' un'artista di vendido accoglie in sé tanti gerbi, germi della vita e non può mai dire come e perché ad un certo momento uno di questi germi vitali che si inserisca nella fantasia. Lei che le dice? Io credo che noi siamo ciò che amiamo. Sa cosa amo io? Guardi. Ecco perché Papa Freud amo queste creature. E qui a Catania perché c'è una gran femmina con cui forse si riuscirà ad accoppiare. Il teatro è vita, ricordati. Il teatro è vita. E tu nel tuo gioco Rosalia dove lo vuoi mettere sto ragazzo? Ho sempre pensato a un figlio maschio. Quando io ero più giovane per esempio volevo uscire con un figlio come te, allora tutti quanti dicevano guarda quella, questo è un altro sogno mio, quella è una donna fatta, anzi è cammina col ragazzo, si importa, invece era mio figlio. Capisci? Io dicevo no, questo è mio figlio, di fronte a tutti quelli che mi conoscevi, questi miei invece lo chiamano per il mio ragazzo, invece non ho il vostro stagione. Fatti una passeggiata come se fosse tuo figlio. No, come se fosse mio ragazzo. La signora già mi guarda male, signora si crede che il mio ragazzo me lo porto a letto. E mio figlio, signora, ha visto che vendrà il ragazzo, chiedrà a sì. Sì, già mi guardava che ha tutto sotto la casa, signora, io me ne so accorta. Stasera andiamo a mangiare fuori a mamma e poi ti porta al cinema. Mane e male ci dobbiamo tenere, camminiamo per via Caracciolo, vieni. Sì, ragazzo, ora parte per soldato. Sì, va a Torino a fare il soldato. Ma ci vado anch'io, mi trasferisco. Ma non ho l'accio, sono amici. Da Torino ci sono tutte quelle donne. Tutte quelle donne che guardano i ragazzi, adesso li portano a letto. Fai vedere la mamma il pantalonietto a comprare mamma, vedete, questo è il jeep, questo ho di covering. E l'ho comprato di cover, noi portiamo roba firmata. Pure le macchie sono firmate. No, queste le macchie si fanno a posto, dottor. Gliele fatti tu. No, no, li fanno i ragazzi per essere alla moda. Già, pure il pantalonio strappato davanti con la pezza sotto. Verà, mamma? Ce l'ha fatto io la pezza sotto, ce l'ho messa in, perché è di moda. Quei ragazzi sono un po' estrusi. Però voi conoscete il mondo dei giovani, non siete di quei genitori che stanno a parte, sapete? No, io vado pure in discoteca con mio figlio. Non mi parlo con le ragazze, però io lo guardo. Verà, mamma? Qualche volte mi fa fare pure qualche giro di ballo. Facciamo la lampada. La lampada di erbo facendo. La lampada di mamma. 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 Posso soltanto dire che senza averli, punto, cercati, mi trovai vivi davanti, vivi da poterli toccare, vivi, da poterne udire perfino il respiro. Dove personaggi che ora lei vede sulla scena. E attendevano lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto. Lei capisce, dottore, ma cosa vuol dire tormento segreto? Attendevano lì, tutti uniti dalla nascita e dal viluppo delle vicende reciproche. Che io li facessi entrare nel mondo dell'arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni, dei loro casi, un romanzo, un dramma o almeno una novella. Io, io lo rifiutai, cercai persino di non ricevervi di più. Nati vivi, volevano vivere. Non è straordinario, dottore. Ma fantastico. Sei personaggio in cerca d'autore. Perché tu sei personaggio in cerca d'autore. Noi siamo personaggi in cerca d'autore. Ma certo se sei un pirandello, quando si è qualcuno, la forma è forma d'arte. Ma cosa accade all'uomo che non è poeta o scrittore? Cosa accade allo spettatore? Cosa accade in tua terra? Ognuno di noi sa, vede un'altra commedia. Forse ogni poltrona, ogni sedia, a ben vederla, è un altro palcoscenico. Ma mi facciano il piacere di andare via. Sì, mi vuole. Lei, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità. E non ha neppure bisogno di imparere verosimili. Perché si pere. Ma che cosa vuol dire in questo? Niente, signore. Niente. Dimostrarle che si nasce la vita in tanti modi, in tante forme. Aglio, sasso, acqua, farfumbre. Oppure donna. Perché si nasce anche personaggi. Ha visto, signore? Ha visto? Pirandello tiene al servizio della sua arte una servetta chiamata Fantasia. Mentre Moreno esce dal teatro e mette la fantasia al servizio della spontaneità. Invece di maschere nude, Moreno immagina il ritorno di un Cristo nudo. Cristo sarebbe stato nudo, annunciò Moreno alla Vienna di Freud. Perché la nudità è l'atto esterno, dinamico, di escludere e rifiutare ogni accessorio culturale. Il nuovo Cristo non sarebbe stato un esibizionista, ma un uomo pieno di rispetto per lo statuto naturale di un corpo nudo e di un'anima nuda. A ben vedere, la mentalità comune è esibizionista, perché esibisce vestiti, scarpe, mutande, accessori, cinture, calzini, non la nudità. Il nuovo Cristo avrebbe avuto il corpo e l'anima nuda, come era uscito nudo dal ventre di sua madre. Il nuovo Cristo avrebbe avuto il corpo e l'anima nuda.